Salve telespettatori e benvenuti a una nuova puntata. Questa avrebbe dovuto essere la seconda puntata, ma dato disguidi relativi alla lunghezza del primo video, è tipo la quarta, ma non angustiatemi. Scusate se non salutiamo nelle tre puntate precedenti perché appunto sono state concecute come tre fatti distinte di un unico video. In ogni caso adesso i problemi sono tutti risolti, quindi si può iniziare. Ok, ora facciamo prima dei due. Dai, questo mi sembra più bello perché sono i barili. Ok. E che professionalità. Carolo. Ok, prendiamo i barili. Lancia. Ma no. Ah ah, no. Eh ma no, era mio. L'ultimo odio con il mio barile. Ahio! Eh! Ah! Visto. Come abbiamo fatto a prendere le tue vite? Ecco, tutti amati che ci sono qua. Ci piaccia. Oh, oh. Ah, che è tutto meglio? Come abbiamo fatto a finire più che altro? Ah, giusto, prima c'era il monitor. E' tutto meglio. Oh, guarda l'altro. Dall'azione. Ciao, soprattutto è stato da tue parte che sto incasinando. Eh, non si può congelare quel tizio. No, si può lanciarlo. Oh, non si può. No, io ho già dato una pala di ghiacciibo che non si può lanciare. E' risponso. E' risponso. Questa si può. Ah, è risposto. Scemo. o sto pezzo leggermente un po' colato aiuto ovunque e poi facciamo un pezzo satanico con tutti i cugli su tutte le parti ahhh scappiamo in due non è così pericoloso un po' o ebbè ti si mochillare i nemici scivolanti ma ti vendicherò da un attimo puoi colpermi non lo sapevo neanche io chi lo perdono chi lo perdono non si smette mai di imparare 3 senza dubbio facciamo un bel coso aspetta vendetta siamo morti gli strami vendetta contemporaneamente dico solo al fatto che lui ti ha seguito nella tomba si si ecco tre qua quattro ma no ma sei nata nuova oh io non mi chiedo da dove mi tirano fuori ah gli vomitano c'erano lo stomaco ahahah no aspetta che ti tengo o vuoi fare come nel castello l'ultima volta no no io ti gioco quanto mi pare ah aiuto ok se passiamo l'incasinato no ci vuole un minifungo direi non vuoi di tornare qua oh oh ma no ok che è stata in testa vendicami che facciamo io ma non ti viene bene quando la fai a comando sai oh no ma sei un assassino assassino schifoso ahahah ahahah aspetta non faccio sadico come te ma vieni eh ahahah nooo ahahah questa è colpa tua la nazione se riuscivo ci fosse di che mi guardi vuoi un po' sto nooo ti è te che hai voluto andare a uccidere quel tizio non t'aveva neanche fatto niente se riuscivo ad arrivarci avevo una vita no ma vediamo a fare l'altro viami speriamo che meglio in questo bar abbiamo qualcosa di piacente e beh tagliamo sto minigio ok siamo tornati abbiamo preso un paio di funghi elica un paio di mini funghi e un paio di funghi e un paio di funghi e ho fatto una cosa bella completa puoi fare una cosa di la si facciamo aspettare il bullo ancora un attimo lì ti guardo dalla cima della sua fortezza che è grande il doppio di lui appena dopo di lui ma una volta entrato scoppi che enorme eh cioè c'è tipo uno squarcio dimensionale che la rende 10.000 volte più grande del normale tipo quelli che permettono le gocchie di spuntare dalle polsangher eh eh sotto l'acqua c'è uno squarcio dimensionale in cui sta comodamente acquattato il gocchie di 6 m dai no no gatti mi hai aspettato ti ho detto di aspettarmi no però io stavo detto no però quattro volte ma fai mi ricordo hai visto che ti sei spaventato eh poteva essere la morte questa cosa ecco caspiterino ti fa bellissimo il goomba schiacciato che vola ai ah eh ma dai altro taglio mi ha sbucato in testa controllo segale è capovolta la catena alimentare poi ci sono i cuba che sparano le palle di fuoco altra cosa contraria alla catena alimentare sono io che mi ci faccio lo zuppo e tra parrucca con i cuba sono state le palle di fuoco che eri li fratelli bumerangher? ma d'andone ma non ti fa colpito 4-5-8 ma non ti fa colpito 4-5-8 ma non ci fa colpito 4-5-8 ma non ti fa colpito 4-5-8 aio ma sei un pezzo no ma non ho fatto un po' scusami non l'hai fatto un po' a saltarmi in testa ah adesso ma non ho fatto un bastardo ahahah ahahah è tipo sei morto la farò dopo la farò dopo la pensavo che era qui la cattiveria non postici poi la vendetta ah devo stare attento mi sai eh ecco prendila come mia vendetta ecco man dove sono? cattimo che ho avuto no ma no lasciamelo vai via ti puoi schiantare proprio sulla sabbia eh non vale chiedo perdono se non mori io non so che te è uno spronto ma ti odio io ti defesto la giustizia abborre una tua esistenza vivo? solo vivo? no sono morto ma no ma io ti defesto ti odio ti odio ti odio basta questo è stato epico è stato cattiveriamente epico cattiveriamente epico poi dai mai del sadico ma guarda mi fa ridere sta roba dai andiamo da ah no vedo non c'è il bullo basta ora basta oh cazzo che ti svegli a pulsante nooo mi diverto troppo col mini fungo come essere minuscola fare i saltoni giganti sai vero non lo ricordo no è al buio ecco perché non me lo ricordavo eeeh neanche date un paio di fuoco no è al buio di fuoco ma non ci svegli a punti che sono stranamente silenzioso è vero anch'io però perchè sto preparando la vendetta ecco perchè sono stranamente silenzioso allora scappo e corro ah ah, altra moneta presa mi fungo quasi serviva ah ma vai, le vendette tanto fuoco di scappare l'ha provocata e adesso non ti aiuterà perchè sono profondamente offeso nell'intimo aiuta ehi tu nooo non mi prenderai mai dammelo e dai si può dire che siamo pare non ci non ci non ci non ci non ci non ci ah ah però una volta mi sono vendicato o meglio per questo file da o l'esperienza diventa più divertente una volta mi sono vendicato mi basta cos'è imparare a uccidermi e non farmi arrivare alla alla bandiera ecco oh adesso chi ti perdona adesso finalmente possiamo dare dal bullo una volta il video non ci sia chiara manca non volevo o non non mi non con in mani in mani chiuso dentro ho cambiato idea, arrivo wow wow quasi quella volta che abbiamo visto che tua sorella stava guardando venivamo sotto hanno detto in un vita che abbiamo fatto wow però davvero il vita è venuto bene cacchio sembravi madonna come dire sono partecipi a questa cosa hai fatto tipo wow wow vabbè chiudiamo questa breve parentesi con meno del solito e notiamo che lui ci sta sparando le palle di fuoco rosa vabbè vabbè la mia vita è un po' come i poveri geng non so se il colore saranno come si chiama tronofani cosplayer non è che sono proprio così pure cosplayer peggio di così non si può cioè fecchia c'è caspiterina ma mi sono traforato le piante dei pigli vabbè davvero pieno in prima faccia uscione di terzo grado in faccia rosa poi uscione rosa di terzo grado in faccia anche io mi pongo i piedi e anche e anche altro e poi ti sei bucato di dietro ahah quanti si vuole chillare leggermente non più di tanto ma un pochino si un atto di bullismo che ha neggiato ah ehm aspetta mi così con il consumo di ghiaccia si può fare quello che non posso chiamare congelare i fish? no, non sono i fish qua no perché so che ti piace fare quello col fiore di ghiaccia si, anche però in assenza di fish si può fare questo si possono congelare i tizi che passano è vero congelare il primo tizio che passa per strada o tre fish quindi se siamo in giro state attenti perché se ci vedete con una truta con una sarapetta per essere vestito blu è pericoloso ok adesso è il momento del bullo no il bello del bullo è che quando vi fai la stacca si può stare nella sabbia non ti prendi e saremo noi buleggiati stavolta ah no, ti prendo lo stesso, non è che affondo gasati il mio c***o oh, magari ci facciamo stavolta senza morire si fa la stagia peggio del punk, il punk almeno ci ha ucciso qualche volta si ce l'ho fatto ma dai, no ah, ah che c***o che sei ah non sono ma se te lo dire scappi eh però per se ci fate i bei saltoni ma non ti sarebbe i bei saltoni eh guarda anche questo qua è circa un chilometro di salto l'uno oggi più sono così oh, possiamo anche inaugurare il nuovo minigioco cioè dicono che super mario salta ma stai qua 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 a saltare come loro avevamo già finto gioco eh cioè tutti i castelli cioè Mario quelli non gli so che era che naso proprio non era che degno sì sì allora direi che questa parte è finita la prossima sarà molto più breve però ci saranno comunque un sacco di morte nostre ovviamente ovviamente non c'è bisogno di dirlo quindi dopo aver ucciso per la prima volta il bullone lo uccideremo di nuovo è ovvio sperando che non ci urli addosso che non ci urli addosso dai è un muro come lì ok arrivederci e saluti grazie